Taekwondo sportivo e Taekwondo freestyle, il centro Taekwondo Arezzo raddoppia la propria proposta e nella prossima stagione affiancherà i tradizionali allenamenti orientati al combattimento con uno specifico percorso volto all'insegnamento individuale delle tecniche più acrobatiche e più spettacolari della disciplina. Questa è il Taekwondo freestyle, propone una particolare riunione tra i movimenti dell'arte marziale e della ginnastica artistica con gli atleti che si metteranno alla prova tra salti mortali e calci in volo. Gli allenamenti permetteranno ai bambini ragazzi del centro Taekwondo Arezzo di specializzarsi nelle forme, cioè nell'esecuzione di una serie di tecniche codificate in simulazione di un combattimento, lavorando sulla velocità, sulla spettacolarità, sulla dinamicità, sull'espressività, sul ritmo o sull'equilibrio. Questo nuovo percorso tra l'altro permetterà alla società retina di iniziare a gareggiare in Toscana e in Italia i campionati e i meeting dedicati a questa specialità, fornendo così agli atleti ulteriori occasioni per confrontarsi e per cogliere medaglie. In entrambe le discipline, la preparazione del centro Taekwondo Aretino prenderà il via al lunedì 3 settembre nella palestra a Margaritone in Via Tricca, perseguendo una doppia finalità, introdurre alla pratica sportiva i neoiscritti e preparare gli atleti già presenti alle gare dei prossimi mesi. I corsi sono rivolti già ai bambini da cinque anni in poi per appassionarli al Taekwondo e per rinforzare il settore giovanile con una settimana di prova gratuita con l'ambizione di diffondere lo sport anche tra i più piccoli.